Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 28 gennaio 2022, siamo quasi arrivati alla fine del mese, comincia una nuova giornata, quindi ben trovati alla nostra rassegna stampa. Iniziamo subito a vedere qual è il santo del giorno, oggi è un santo veramente particolare, uno dei pilastri della Chiesa Cattolica, Santo Maso d'Aquino. Santo Maso d'Aquino nacque nel 1227 dal conte Landolfo e dalla contessa Teodora, erano parenti addirittura di Federico Barbarossa, quindi una delle famiglie più nobili dell'Italia di allora. A 5 anni fu affidato ai monaci di Monte Cassino, fu poi inviato alla Università di Napoli dove si distinse per studio e ingegno, ma contro la volontà dei genitori che gli prevedevano, insomma, gli costruivano una carriera veramente importante, entrò nell'Ordine di San Domenico. Studiò poi filosofia e teologia all'Università di Parigi, fu molto apprezzato per il suo ingegno e studiò anche sotto il celeberrimo Sant'Alberto Magno, uno dei pilastri appunto della teologia di allora. È considerato Santo Maso d'Aquino un dottore della Chiesa, si distinse soprattutto però per la sua umiltà, rimase con l'innocenza di un bambino finché non gli colse la morte. Un santo dunque da imitare e da tenere come esempio. Benissimo, ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo come il sole che ha campeggiato per molti giorni e appunto in questo periodo si sta rannuvolando. Abbiamo delle nuvolette insomma che sovrastano un po' il territorio della provincia di Pesor Urbino, mentre qualcosa di meglio è nel sud delle Marche. Instabile il tempo tra la mattina e il pomeriggio con piogge, specie nelle medio-basse Marche e sugli appennini. C'è anche stata foschia questa notte, questa mattina insomma c'era molta bruma nel territorio. I venti spireranno sulle coste da nord-ovest mentre sull'interno con una tendenza media da ovest e sud-ovest e le temperature sono in calo e si aggireranno tra i 4 e i 7 gradi. Ciò detto, vediamo subito le notizie del giorno a partire dalla pagina del resto del Carlino per quanto riguarda Fano. Vediamo di spostare appunto i quotidiani e vediamo che l'ASET con le prospettive di fusione o non fusione con Marche Multiservizi campeggia la prima pagina dei quotidiani, le vediamo sia sul Corriere Adriatico che sul resto del Carlino. ASET su quest'ultimo giornale, digestore, fusione, maggioranza in difficoltà. Intanto i comuni soci fanno sapere attraverso il sindaco di San Costanzo, Sorcinelli, di attendere da mesi la convocazione di seri. Sì perché il futuro di ASET non può essere costruito soltanto dal comune di Fano nonostante che questi abbia la proprietà del 97% delle quote azionarie, ma per una politica di compartecipazione, di condivisione deve essere appunto concordata con i sindaci del territorio, che poi sono gli stessi clienti di ASET e SPA. E poi vediamo a fondo pagina un'iniziativa che riguarda un po' il periodo che stiamo vivendo. Abbiamo il giorno della memoria, si parla moltissimo nei mass media e nei questi giorni di campi di sterminio, di campi di concentramento, di guasti che ha fatto la guerra. E in questo articolo si parla di un video che è stato girato raccogliendo documenti in tutto il mondo sui disastri che la Seconda Guerra Mondiale ha causato nella città di Fano con l'abbattimento di sette campanili. Contagi e freddo, saldi fiacchi in centro. Una nuova inchiesta del resto del Carlino sul mercato ambulante, il B, il mercato ambulante, un B settimanale che si svolge mercoledì e sabato in città. Ebbene, ci sono vendite fiacche anche nei negozi. Insomma, i saldi non attirano perché i clienti si vedono con il contagocce, dicono gli operatori. I commercianti sono sempre più demoralizzati. I saldi stanno andando male, ha detto Loretta Oliva, del negozio di Intimo Trendy. Con i saldi è data bene la prima settimana. La corregge Amedeo Fiacconi, di un negozio di calzature. E l'altro invece dice che c'è abbastanza movimento. Così esprime Francesca Impiglia, alle prese con tre clienti diversi all'ora di pranzo, insomma, nel suo negozio. Poi abbiamo anche altre dichiarazioni dei commercianti. Li vediamo qui nelle fotografie che ha pubblicato il resto del Carlino. Nuova caserma dei vigili. Non pervenuta in allarme i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che già nei mesi scorsi avevano presentato una interrogazione su ritardo dell'avvio ai lavori. Ovviamente questa questione dipende poco dall'amministrazione comunale, perché in ballo c'è il Ministero che ha finanziato l'opera e deve dare il via ai lavori. Lavori che però tardano, insomma, ci sono problemi che poi verranno messi a fuoco, appunto, nelle trattative tra l'azienda e il Ministero stesso. La sezione Andrea Costa del Partito Socialista torna un punto di riferimento della politica. Si è ristrutturata. È di nuovo operativa, dunque, questa sezione fanese del PSI, dopo l'incontro che si è tenuto a Fano il 18 gennaio scorso, con una rappresentanza degli iscritti anche dei comuni di Mondolfo, San Costanzo, Monteporzio, Cartoceto. È stato nominato in quella occasione un nuovo comitato che resterà in carica fino all'assemblea degli iscritti che è stata programmata per il mese di febbraio. In questo articolo di Spalla vediamo che il Carino pubblica anche i nomi di chi fa parte del direttivo. Adesso non ve li leggo tutti, insomma, vi invito a leggerli sul giornale. Frena il numero dei positivi in otto comuni. Per fortuna, dopo il rimbarzo record del primo e due decadi di questo mese, che hanno toccato punte veramente allarmanti, il dato complessivo dei positivi ha fatto registrare una leggerissima flessione, importante comunque per verificare il trend della pandemia. Questa flessione si è attestata nella giornata secondo una quota di 1.357 casi, 7 in meno rispetto al 20 gennaio scorso, con una percentuale sull'intera popolazione di 40.947 unità, ovvero del 3,31%, a fronte del 3,33% di sette giorni prima. È un'inezia, diciamo veramente, ma comunque è un primo segnale incoraggiante appunto dell'evoluzione della pandemia. A Urbino il Baldi si potrà abbattere e ricostruire. Il Baldi è il liceo delle scienze umane di Via del Cassero. Dovrà essere abbattuto e ricostruito accanto al liceo scientifico, riunendo così il polo scolastico in un unico luogo, in una zona, in zona Barea. Un'idea che è già proposta dal Comune di Urbino alla provincia di Pesaro è concordata con l'ente che però necessita dell'approvazione del Consiglio Comunale, per cui, per questo motivo, è stata aggiunta l'ordine del giorno della seduta del Consiglio che si svolgerà oggi. Quindi credo che nessuno obietterà di fronte a questa prospettiva. Il sindaco Maurizio Gambini dice abbiamo avanzato alla provincia la proposta di partecipare a un bando per l'edilizia scolastica che scadrà l'8 febbraio. E quindi, se si riesce a vincere questo bando, si avranno anche le risorse finanziarie per procedere a questo intervento. Una dichiarazione dell'Udc tramite Stefano Pollegioni, che è delegato di questo partito per il comparto sicurezza, e Davide Delvecchio, commissario provinciale dello stesso partito, a sostegno delle rivendicazioni e delle prospettive delle richieste degli agenti di pubblica sicurezza di Urbino per evitare che il nuovo commissariato venga realizzato in località Sasso. Dopo il sit-in di protesta del SIULP provinciale, la politica è ancora in prima linea per cercare una soluzione. Ma oltre la politica abbiamo anche delle dichiarazioni del segretario della Confcommercio di Urbino, Egidio Cecchini, che esprime solidarietà a nome dell'Associazione agli operatori della Polizia di Urbino. Autistami fa guidare il bus a una passeggera. Non ha resistito. Una bella ragazza di vent'anni aveva chiesto all'autista di guidare l'autobus. Era un po' un suo desiderio. L'autista ha ceduto, ma ora sta passando dei guai, perché è stato licenziato, poi è stato riassunto, però la procura ha deciso di agire d'ufficio e quindi lo ha messo sotto processo per peculato d'uso. Il direttore Benedetti gli chiederemo anche i danni. E l'udienza è prevista nel mese di marzo. L'AMI si costituirà parte civile. Dice il direttore Massimo Benedetti, lo abbiamo riassunto, ma non abbiamo dimenticato ciò che è avvenuto. Quindi, per difendere l'immagine e la serietà dell'azienda, chiederemo i danni, perché non possiamo fare passare sotto silenzio quanto è stato compiuto. Il sindaco di Fossombrone, Berloni, potenziate il nostro ospedale. Lo ha detto durante la visita che l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha compiuto a Fossombrone. Si tratta di un nosocomio importante, non solo per la città metaurense, ma anche per tutto il comprensorio, per tutto l'entroterra. Insomma, gli ospedali così dell'entroterra, come quelli di Pergola, di Cagli, di Fossombrone, di Sassocorvaro, sono delle unità imprescindibili, che sono state svalutate in questi ultimi tempi, appunto, dal programma sanitario regionale e ora dovrebbero essere, appunto, rivalutate per dare un servizio efficiente a tutti coloro che abitano lontano dalla costa. E poi abbiamo un articolo qui di Spalla, che vi invito a leggere, perché fa chiarezza sull'incontro che c'è stato l'altro giorno al Ministero sulla superstrada Fano-Grosseto. Sembrava che, insomma, la proposta delle quattro corsie fosse stata accolta. In realtà sembra che così non è, lo dice il consigliere regionale Andrea Biancani. Attenti, sulla Fano-Grosseto si dicono cose non vere, ha dichiarato il consigliere. Rispetto a ciò che il Ministero aveva previsto per la Fano-Grosseto, nulla è cambiato, dice Biancani. L'ANAS, infatti, procede con il progetto per una strada a sole due corsie. Perciò non capisco i toni di trionfo di Francesco Baldelli. Il consigliere regionale Andrea Biancani è critico verso l'assessore regionale alla viabilità che mercoledì aveva parlato di un percorso molto proficuo iniziato appunto con questo nuovo incontro. Vediamo un attimo, ma che cosa si è approvato in questo incontro, quello di mercoledì? Si è valutato, ha detto Biancani, lo studio di fattibilità del progetto che riguarda i lotti da Mercatello su Metauro a Santo Stefano di Gaifa, ovvero a Canavaccio. E il Consiglio Superiore, che è organo tecnico, ha approvato l'opzione che prevede un percorso con una parte di sede nuova per l'80% e una parte coincidente poi col venti sulle tracciato già esistente, ovviamente risistemandolo. Il tutto sarà a due corsie e in molti tratti non compatibile con il raddoppio. Quindi una doccia fredda, una vera e propria doccia fredda sulle dichiarazioni così ottimistiche che erano state rilasciate nei giorni scorsi. Diamo un'occhiata ora alla pagina di Fano del Corriere Adriatico e vediamo come si parli di piano sanitario sociale, un confronto che sta destando l'interesse delle parti. Vediamo, è grave la nostra esclusione, dicono i sindacati, scusati, all'assessore dell'ambito Dimitri Tinti, l'assessore al welfare, che è anche il delegato alla presidenza dell'ambito sociale. La protesta dei sindacati per i tavoli tematici, dopo giorni nessuna risposta e intervengono in questo caso i sindacati CGL, CISL e UIL che manifestano tutto il loro disappunto. Per quanto riguarda le verifiche tari che stanno un po' ponendo a suo quadro tra virgolette tutto il territorio, ci sono molte proteste per quanto riguarda le multe che vengono combinate, il sindaco Massimo Seri si accinge a convocare una riunione di giunta nei prossimi giorni. Aumentano le rimostranze degli utenti, le rimostranze che sono state così attivate da una dichiarazione di Sergio Schiaroli, che è stato segretario della Feder Consumatori a suo tempo, che quindi è abituato a difendere le stanze del territorio, dei consumatori, il quale ha evidenziato come questo non fosse il momento propizio per attivare certe iniziative dopo che la pandemia e soprattutto l'aumento del costo del caro vita ha messo in difficoltà tante tante persone, quindi una difficoltà su una difficoltà è ancora una terza per quanto riguarda l'accertamento della tari. Ancora dibattito politico sul Corriere Adriatico, sospetti sulla fuga di informazioni aziendali per quanto riguarda l'ASET, le minoranze vogliamo chiarezza e verità, soprattutto Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle giudicano molto grave lo scenario rivelato dallo studio di era tenuto segreto per oltre due anni. Ma il sindaco Massimo Seri ribadisce non c'è stata alcuna trattativa segreta e annuncia un dibattito in giunta sulla lettera dovute le riflessioni, dice il sindaco Massimo Seri. Mentre il presidente dell'ASET Paolo Reginelli siamo alle bandierine politiche e si è persa ogni concretezza. Lui ovviamente ha a che fare con i problemi veri perché poi l'ASET è in prima linea su questa partita. Distribuita ai comuni le riserve di ASET vedete come l'azienda controllata dal comune di Fano campeggia su diversi aspetti in diversi settori sulle pagine dei giornali ebbene solo il 43% delle risorse pagato da ERA le cifre sono allo studio del 2019 da rivalutare fibrillazione per il timore di un'uscita non autorizzata di dati un articolo piuttosto tecnico piuttosto analitico che sonda appunto tutti gli aspetti di questo problema e sintetizza le operazioni che sono state effettuate in tre fasi in questa tabella. Sulla Val Metauro per Fossombrone abbiamo un articolo che riguarda l'incontro tra Filippo Saltamartini e il sindaco Massimo Berloni sulla necessità di valorizzare l'ospedale soddisfatto il sindaco Berloni di questo incontro nel corso del quale ha chiesto risposte concrete sulle principali criticità in tema di assistenza sanitaria. A Pergola itinerario della bellezza una promessa per la Spagna si sa come le attività museali di Pergola vengano gestite dalla Covcommercio ed è il direttore provinciale dell'associazione di categoria Varotti oggi unico rappresentante delle Marche alla Fiera del Turismo di Madrid e quindi un ambasciatore non solo per il territorio della provincia di Pesaro Urbino ma per tutta la regione. Vediamo ora sulla pagina di Pesaro si parla del Palace altri intoppi non più ammessi la ditta è sub iudice il Comune sta avagliando se proseguire o meno con l'affidamento delle cantiere è stato compiuto un sopralluogo per verificare cosa manchi per completare la riqualificazione e questo lungo stand by che ha caratterizzato i lavori di ristrutturazione del vecchio Palace che dovrebbe servire poi anche a tutto il ROF e anche altri eventi organizzati dal Comune di Pesaro insomma desta preoccupazione perché poi non si capisce bene le ragioni di questo stand by insomma di questo fermo dei lavori per la pista ciclorotellistica un progetto ok ma però serve il nulla osta la conferenza dei servizi si è tenuto su questa struttura ultimo step per l'impianto a Torraccia insomma anche questo è un servizio nel mondo dello sport che correda le proposte che dà il Comune di Fano e in questa pagina invece vediamo il Sindaco di Pesaro il Comune di Pesaro prima non di Fano il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci in questo caso replica le accuse di razzismo che alcuni operatori hanno evidenziato in merito al nuovo regolamento per le attività imprenditoriali nel centro storico sappiamo come certe attività sono state escluse tipo kebab tipo altre cose che hanno a che fare con dei cibi esotici però il Sindaco Matteo Ricci rifiuta questa interpretazione benvenga a qualsiasi miglioramento dice il Sindaco ribadisce le scelte di qualità effettuate per le quattro vie del centro storico tra cui via Branca via Rossini il corso 11 settembre insomma diciamo così che puntualizza di nuovo quelle che sono le attività ammesse e quelle che sono escluse come dico contestando le accuse di razzismo e sono 218 le famiglie adesso sotto sfratto corsa alle soluzioni l'emergenza casa interessa anche il pesarese il bancato rinnovo del blocco aggrava fortemente il precariato abitativo e il blocco degli sfratti ovviamente i sindacati chiedono un tavolo in prefettura e benefici fiscali per i proprietari insomma 218 famiglie sotto sfratto non è un dato trascurabile perché poi queste famiglie una volta che sono state costrette ad abbandonare la casa di cui non riuscivano più a pagare l'affitto non sanno dove andare e costituiscono un peso anche per i servizi sociali del comune stesso Ora Zietti condanna tre anni e quattro mesi per il tragico scontro a Colombarone nel quale morirono una giovane mamma e una coppia l'uomo tirò il freno a mano e la Mazda fu senza controllo e appunto provocò questo incidente Marco Reazzietti è stato condannato per omicidio stradale in concorso per il tragico schianto di Colombarone in caso riguardo all'incidente che si è verificato il 9 giugno del 2019 che è costato la vita a Silvia Lucarelli aveva 33 anni e ai coniugi sessantenni Roberto Carosio e Oriella Bonerba era una solata domenica sembrava un giorno di festa un giorno tranquillo invece si è trasformato in una tragedia alla farmacia comunale di Soria un hub tamponi per gli Under 18 attivo da lunedì e destinato agli studenti i prezzi calmierati in base alle fasce d'età e il gruppo Aspes che gestisce 9 farmacie comunali di Pesaro ed una a Gabice allestirà un centro tamponi dedicato proprio agli studenti grazie al potenziamento del personale dedicato al servizio nella farmacia di Soria si tratta della farmacia in via Laurana da lunedì previa prenotazione si potranno eseguire tamponi antigenici rapidi a tutti gli studenti delle scuole primarie quindi un appuntamento da assegnare per chi vuole appunto vaccinarsi arriva il tour guidato all'ombra dei cipressi domani si visita il San Decenzio con le sue tombe illustri creatività e fantasia in questo articolo è un modo di vivere la città di Pesaro nell'ottica di riprendere un ciclo di visite a chilometri zero appunto in tutto il territorio comunale sono le guide abilitate di Pesaro che fanno alcune proposte i primi due appuntamenti sono fissati per domani sabato 29 gennaio alle ore 15 al cimitero centrale San Decenzio e domenica 6 febbraio alle ore 16 con le corti rinascimentali Raffaello in Sonosfera ispirate dal fascino di cimiteri monumentali celebri come quelli a Cattolico di Roma o quello di Perlaces a Parigi dove era sepolto anche Gioacchino Rossini e dalle tante storie che nella loro eterna quiete hanno da raccontare le guide di Pesaro riproporranno una piacevole passeggiata appunto in questi luoghi spesso non conosciuti nemmeno dagli stessi pesaresi ed ora diamo un'occhiata anche alle notizie di sport vediamo come il resto del Carlino parli della vis con un super farroni che si è fermato chiavi della porta al baby campani il portiere non è al meglio e potrebbe saltare la trasferta di Pistoia insomma Farroni al momento al momento si pone in stand by disponibile il nuovo acquisto Ferrini insomma Farroni Ferrini insomma sono due nomi che possono essere un po' così simpatetici però in realtà sono due individualità ben precise il portiere comunque non è al meglio delle sue condizioni vediamo il fanno calcio Vastese e Portodascoli Califano e al bivio del torneo due gare fondamentali per il Granata alla ripresa del campionato domenica in trasferta e mercoledì in casa in Abruzzo occhio all'argentino Jonathan Alessandro che ha segnato nove reti in 17 partite insomma è un avversario temibile da rispettare il direttore tecnico Califano dice a noi interessa solo fare più punti possibile per recuperare i posti in classifica VL contro Treviso si dovrebbe giocare la formazione veneta è bersagliata dal covid ma oggi verranno effettuati i tamponi i biancorossi verso la squadra al completo un nuovo appuntamento per il basket pesarese che deve riscattarsi dopo le deludenti prestazioni delle ultime partite stanno lavorando a parte solamente Jones e Moretti dopo le cadute a peso morto di Trieste insomma le cadute di Trieste di cui ho parlato e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno vi invito a guardare questa sera occhio alla notizia delle ore 20-30 condotto da Simona Zonghetti questo è tutto per il momento a risentirci C'è Grazie a tutti.